Ciao, oggi parliamo di numeri. Partiamo dallo zero. Lo zero rappresenta l'energia pura, l'energia dell'universo, la coscienza universale. Pensate un po', rappresenta l'inizio, l'inizio di tutto, ma anche la fine di tutto. Per questo motivo lo zero viene rappresentato esattamente come un cerchio in quanto tutto inizia e tutto ha una fine, tutto inizia e tutto torna. Pensate che addirittura lo zero corrisponde non soltanto al simbolo dell'inizio totale e dell'universo, ma ha un suono. È il suono che gli antichi Veda pronunciavano e pronunciano ancora OM. OM rappresenta l'universo del seme, della creazione. Possiamo anche rappresentarlo come l'inizio di qualcosa, nello specifico simbolicamente rappresentato come un uovo, perché è la nascita. E questo è l'essenza dell'inizio prima di ogni cosa. Messo dopo ogni numero rappresenta un ciclo, quindi la fine o l'inizio di un ciclo. Questo è l'essenza dello zero. Grazie.